Ciao a tutti ragazzi, questo è il mio primo video senza Paola perché è impegnata nello stage. Sono dovuta arrivare fin qui a questo negozio della Block per acquistarle un paio di scarpe da Jazz. E quindi ora che ho fatto questo acquisto me ne torno all'hotel. E' grandissimo questo negozio e vi mostrerò la nona strada che ho appena percorso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.